Raccontare Matteo Messina Denaro è anche raccontare e fare i nomi dei politici, degli imprenditori, dei professionisti che hanno favorito i tre decenni della sua latitanza. Usiccu racconta quella che è stata la storia di questo boss, le sue passioni, le sue amanti, le sue ricchezze. Oggi Matteo Messina Denaro si presenta come un gentiluomo, ma gentiluomo non è, è un sanguinario, una stragista che ha fatto tanti soldi macchiati di sangue, che gronnano sangue e che oggi è rinchiuso in un carcere. Usiccu racconta come la borghesia mafiosa lo ha protetto per tre decenni.